Ciao ruolatori, io sono il Kurt e queste sono le pillole di ruolo e oggi parliamo di una osina che ogni tanto si legge in giro, ovvero sia, sembra che qualcuno sia convinto che i giochi di ruolo vecchi siano meno divergenti dei giochi di ruolo nuovi. E' una cazzata, una cazzata perché a parte ce lo dimostrano le centinaia e centinaia di persone che stanno continuando a giocare con Old School, che stanno continuando a giocare con il vecchio Dungeons & Dragons Advanced, con tantissimi vecchi giochi come The Call of Tulu che non è cambiato molto dalle sue prime edizioni, gente che gioca veramente allo stesso gioco da tantissimo che è tornato su vecchi giochi da pochissimo, ogni gioco offre un'esperienza diversa, i giochi che escono via via si sono fatti bene e si sono degni di rimanere è perché creano delle esperienze diverse, dei modi di giocare diversi e quindi piaceranno di più a chi cercava un modo di giocare diverso, ma stabilire la bontà di un gioco dall'anno di pubblicazione tecnicamente è una cazzata Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!